Finisce 1-1 tra San Nicolò e Re Canatese al termine di una partita che i biancazzurri non iniziano bene, ma che riescono poi a recuperare sfiorando anche la vittoria nel recupero. Epifani dà respiro a Bisegna e manda in campo Bosi e Iorio dal primo minuto a far compagnia a Chiacchiarelli per provare a rifornire Traini. La prima mezz'ora trascorre senza particolari emozioni, salvo un paio di tentativi da parte di Gabrielli e Stivaletta. Sartori prova poi a sorprendere dalla distanza Ciotti fuori dai pali, poco dopo imitato in area da Degano, con pallone che finisce fuori. Il San Nicolò ha qualche difficoltà di troppo ad avvicinarsi all'area avversaria e non riuscirà mai a creare nel corso del primo tempo vere e proprie occasioni da gol. Nella ripresa Epifani manda in campo prima Bisegna e poi Massetti, al posto di Bosi e Iorio, non ancora pienamente integrati negli schemi di gioco. Il San Nicolò sfiora il vantaggio al tredicesimo, quando da un cross di Chiacchiarelli Traini fa da sponda per una semi-rovesciata di Bisegna che finisce fuori. La beffa si consuma cinque minuti dopo, quando Degano serve palla al neo-entrato Pasquini che infila con un Lob Ciotti per il vantaggio della Re Canatese. Epifani butta quindi nella mischia anche Moretti per cercare il pareggio che arriva al ventottesimo. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra battuto da Bisegna, De Santis anticipa Fogliera per il pari del San Nicolò e la prima rete stagionale del difensore in campionato. A cinque minuti dal termine Massetti prova a servire Traini in aria, ma il pallone finisce fuori facendo sfumare una buona occasione per i biancazzurri. Nel recupero del San Nicolò vorrebbe un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in aria, ma il direttore di gara lascia correre. Poco prima della fine Traini spara alto a tu per tu con Fogliera un'occasione clamorosa per vincere la gara. Finisce così con il secondo pareggio consecutivo in casa per il San Nicolò in questo inizio d'anno, risultato che dà parzialmente seguito alla vittoria contro il Matelica, ma che di certo non può soddisfare pienamente la squadra di Epifani. È un pareggio che non credo ti lasci soddisfatto, soprattutto alla luce del primo tempo. Non mi lascia soddisfatto perché oggi mi aspettavo di vincere, perché vincere un mercoledì a Matelica facendo una grandissima partita ci doveva dare la spinta per vincere anche questa. Il paradosso è che ero preoccupato molto per il secondo tempo, invece abbiamo fatto male il primo. Quando dico per male che siamo arrivati dove dovevamo arrivare, però ci è mancata la forza di fare l'uno contro uno, la forza di fare una giocata, la forza di attaccare la porta, la profondità. E questa è una cosa che non mi sta bene perché in questa situazione in cui ci troviamo di classifica, che siamo nei play-off, veniamo da una vittoria di Matelica importante, oggi dobbiamo essere liberi mentalmente perché dobbiamo cercare di vincere, perché non abbiamo più nulla da perdere per quanto riguarda la situazione di salvezza, quindi dobbiamo giocare per fare tanti punti da qui alla fine perché vogliamo arrivare in alto. Nella ripresa hai cambiato tutti gli esterni rispetto a quelli scelti all'inizio gara, segno che qualcosa alle spalle di Traini non ti stava piacendo. No, non mi stava piacendo niente e ho fatto dei cambi perché speravo che quelli che entravano erano più brillanti, non hanno giocato mercoledì e mi potevano dare qualcosa di più. Invece ho dovuto ricambiare e questa è la cosa che sono molto arrabbiato perché la squadra è fatta di 20 giocatori, 21 giocatori, ho bisogno di tutti e bisogna farsi trovare pronti. Poi nel calcio purtroppo decide sempre questo rettangolo verde e quindi ho dovuto cambiare perché vedevo che le cose non andavano, nel secondo tempo siamo andati meglio, anche se abbiamo preso un gol ridicolo perché è un rinvio del portiere, abbiamo preso un gol, ma giustificabile perché in questo momento stanno giocando due ragazzi dei Santi Semilillo che stanno tirando la carretta da tanto tempo, oggi erano stremati gli ultimi 20 minuti, li devo fare solo i complimenti, però alla fine abbiamo pareggiato, la potevamo vincere, peccato per quella palla di Traini alla fine perché poteva essere una vittoria molto importante. Dopo il primo tempo pensavo che questa squadra, la mia squadra potesse fare qualcosa di buono e quindi anche per il primo tempo che abbiamo interpretato, peccato per quel gol che abbiamo preso perché magari la partita l'avremmo portata poi a termine, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto le nostre buone occasioni ma non siamo stati lucidi a chiudere la partita, questa squadra viene dall'ultima posizione di classifica che adesso si sta tirando fuori piano piano, dando continuità proprio ai risultati, quindi in un'altra situazione magari la partita con la lucidità e con la tranquillità, insomma la serenità di una squadra che non ha problemi di classifica, secondo me la poteva portare a termine lo stesso.